puoi spettare qui ne morni arzai nei miei gigi prendere ciao ciao come sei tu? ok molto bene grazie puoi giocare? vuoi giocare? giocare giocare oh 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 ah si 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 kaila si 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 no 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 non no 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 Mi play we play Mi go Tu non go, tu vai playes un numero Suleiman, miегда, mi Voi che non va 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 ok ok ahahahahah ha OH MANSOORA ok ahahah monsora see you see you bye Ciao! . . ! . . . . è stato un po' di più speciale speciale che cosa che ho detto che ho detto che ho fatto la vita e io ho fatto la vita e io ho fatto il mio e io ho fatto il mio e io ho fatto il mio No, non ho fatto un commento, ma non mi ha fatto un video, non mi ha fatto un po' di più. Mi ha detto che è il mio avviso, non mi ha detto. E questo è quello che mi ha detto. Mi ha detto che mi ha detto, ma non mi ha detto. Non mi ha detto, non mi ha detto. Non mi ha detto che non mi ha detto. è buco a sponare atti stasbietti per me ammkarrò papi io attin non fa l'amidità un po' di rilegta la le isa mentone pregge il ca nuk e fe e la via o amici o già con nieres ne sentrim ma se fendone jane jeres a fendone se du se o manin mu e fort Forza tu mani. Ma non si a kaminati, non si. Ko shte lati? Sperma i lati? Ok, no, che metto in life. Elad, invite me, please. Elad, zammar. Kulli. Elad, zammar. Elad, zammar. Bye bye. How about you? How about you? You are Arabic or English? No, non c'è il l'esho poi l'esho, vai, vai l'esho, l'esho 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 il bramme ta classe heee kosh de l'oti Sì Sì, 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 sì. non c'è canto volo di come dice ora i con gli anni mesi sotto scocco di